Immaginati la scena, tu sei l'amante, e già qua non è che parti benissimo, magari anche da un bel po' di tempo, sei mesi, un anno, e come fanno tutti quanti gli uomini all'inizio promesse, promesse, lascerò mia moglie, dammi soltanto un po' di tempo, dormo già sul divano, siamo separati in casa, solite cazzate insomma, ma all'inizio è tutto un fuoco e fiamme, e tu che stai da Dio, cominci a crederci, anche perché magari lo vedi convinto, Magari parte anche qualche ti amo, e là tu sei già fregata, ma ad un certo punto cosa succede? Lui si raffredda, frena, di colpo blocca tutto l'entusiasmo, non ti dico poi se cominciano a girare anche dei pettegolezzi, e tu ti chiedi ma cosa sta succedendo? Beh, te lo dico io cosa sta succedendo, lui semplicemente non vuole lasciare la moglie, sai perché ti ha scelto all'inizio? Non per sostituire la moglie, no no, ma per riempire un vuoto, probabilmente a casa sua mancava qualcosa, energia, passione, connessione, chiamala come vuoi, e tu eri semplicemente lì pronta a dargli quello che in quel momento non trovava nel suo matrimonio, Ma questo non significa che voglia o avesse voluto rifarsi una vita con te, e il suo stop, la sua frenata, il suo chiederti tempo, è dettato semplicemente dalla paura, paura di essere scoperto, paura di perdere quello che ha, e soprattutto lui non ti ama davvero, E se te l'ha detto in passato, era semplicemente un modo per tenerti buona, per continuare questo suo giochetto, questa sua doppia vita, la verità è questa, se lui ti amasse per davvero, avrebbe già fatto la sua scelta, da mo'. Quando un uomo è davvero innamorato, è deciso, non rimane sospeso tra due persone, non ha paura dei pettegolezzi, delle conseguenze, o di affrontare la realtà, agisce. Quindi se stai ancora aspettando che faccia qualcosa di concreto, oltre chiaramente alle parole, mi dispiace dirtelo, ma molto probabilmente non succederà. Sei stata una soluzione temporanea, non la scelta definitiva, e adesso tocca semplicemente a te scegliere. Vuoi continuare ad essere la tappa buchi, o vuoi qualcosa in più?